Voi dovete credere, io sono stanco, sono stanco davvero, perché poi alla fine vengo qua e devo venire a ripetere sempre le stesse cose, perché dalla partita del locomotive a stasera, cioè non c'è nulla di nuovo da aggiungere, cioè prima magari abbiamo dovuto elogiare maggiormente Douglas Costa, stasera vale lo stesso discorso ma vale per Dybala, che è un altro giocatore, uno di quelli, per me titolarissimo, ma non è che lo dico stasera, è da una vita che lo dico, uno come Dybala, per me è un titolarissimo e tu quando puoi permetterti, un giocatore del genere, in panchina, cioè di che parliamo, di che parliamo, di che vogliamo parlare, la Juventus è una squadra che grazie ai giocatori campioni che ha, può permettersi anche di giocare sotto ritmo, anche stasera, la Juventus per me è brutta, brutta, per me ha fatto una partita ancora più brutta rispetto a quella della locomotive, perché qualcosa in più l'ha anche concessa e poi nel primo tempo assopita, ma nel secondo bene o male poi ha sovvertito un po' l'inerzia, però ripeto, questa è una squadra che si può affidare anche nel momento di minor brillantezza, si può affidare a gente che prende e ti risolva una partita, cioè esce Ronaldo, entra Dybala, la squadra guadagna e non perde di qualità, guadagna, perché entra comunque un giocatore forte, ma quel giocatore forte è fresco e questo fa la differenza, Romagnoli, imbarca, driblato, gol, poi Dybala, io per Dybala, cioè io per Dybala, è una vita che lo dico, per me Dybala dovrebbe giocare sempre titolare, sempre, per me è un titolarissimo, questo ovviamente poi l'allenatore ha la propria tattica, i propri pupilli, quello che vuoi, per me Dybala è un titolarissimo, uno di quei giocatori che ti ha risolto la partita con l'Inter, ti ha risolto la partita con l'Ocom, ti ha risolto la partita, è un giocatore che fa la differenza e la fa proprio in senso pratico, non è che stiamo parlando di aria fritta, è un giocatore che fa letteralmente la differenza, ma lui, tanto lui quanto Douglas Costa, ripeto, stasera è la stessa storia, dalla panchina stasera nella Juventus sono entrate gente come Douglas Costa e come Dybala, voi mi dovete dire qualsiasi altra squadra italiana che può permettersi questo, poi ci chiediamo perché vincono, perché vincono, questa è una squadra che giocando male, perché stasera per me la Juventus non ha giocato un bel calcio, questa è una squadra che nonostante questa si può permettersi, se lo può permettere, è una delle poche squadre, mentre l'Inter per esempio deve andare a Mila all'ora, che poi molti juventini mi hanno scritto che culo, che culo, che culo, quando l'Inter ha dominato contro il Verona, cioè ha tirato in porta 17 volte contro il Verona, 17, allora che dovrei dire? Io dovrei rincarare la dose, invece no, io non parlo di culo, io parlo invece di una squadra, che comunque in una fase di passività non prende gol, non prende gol e ci arriviamo, perché comunque si critica De Litt che la prende con le mani, ma De Litt è un mostro, De Litt è un mostro, quante volte ha recuperato pallone stasera, io queste cose le noto, io le guardo, a differenza di Bonucci che mentre in fase di marcatura difensiva per me è pessimo, per me è pessimo, però secondo me se metti Chiellini De Litt, figlio mio, figlio mio è difficile che passa qualcuno, perché De Litt farà qualche cappellata, ma è veramente forte, ma lo vedrete più là, dirlo adesso, capirlo adesso secondo me viene difficile, ma lo vedrete più là, perché poi giustamente chi le partite non le vede, va a vedere le highlights, va a vedere il tocco di mano, le solite cose, i giornali, quello, quell'altro, viene indottrinato in un modo, e dice, pensa, no ma che bidone che abbiamo preso, ma De Litt, De Litt il suo lo fa, lo fa anche bene secondo me, ma detto questo ragazzi miei, niente, mi viene difficile da aggiungere altro, non so chi altro aggiunge, onore comunque al Milan che ha fatto una bellissima gara, secondo me ha dimostrato personalità, non so quanto siano i meriti del Milan e magari i meriti della Juventus, questo non lo so, però sicuramente ho visto gente rinata, Paquetà mi è piaciuto tantissimo, no no, il Milan ci ha provato, ha avuto le sue, anche le sue occasioni, una con Piontek, una clamorosa con Paquetà che il portiere Scesni ci arriva, un altro tiro di Piontek, nel primo tempo ha fatto bene tante belle cose, ma anche nel secondo, poi alla fine il suo l'ha fatto, quindi al Milan sicuramente può ripartire da questa prestazione, si sapeva che il Milan stasera far punti era un po' complicato, però ripeto, si può ripartire da questa prestazione per il Milan, questa prestazione è importante, poi ci sono dei limiti, poi ci sono dei limiti perché come ho detto come ho detto l'altro giorno, non vedo un leader, questo è ovvio, quando tu non hai un leader, nei momenti difficili è difficile, nei momenti difficili è difficile di salire alla Tina, stesso Romagnoli che è visto come un fuoriclasse ed è quello che invece si è fatto saltare su Di Bala, per esempio, questo racchiude un po' quello che è il Milan, una squadra giovane che comunque ha potenzialità per migliorarsi ma ci vuole tempo, è sempre qui anche la stessa solfa, che dire, devo valutare il discorso Ronaldo e credo che ci farò un discorso a parte perché non ho capito bene, non ho capito bene se per infortuni è dovuto andare negli spogliatoi o per quale motivo, non l'ho capito bene, però sicuramente se lui invece ha fatto di testa sua e non si è andato a sedere in panchina, per me quello perde ancora ma perde veramente di valore, di valore proprio, per me mi scade ulteriormente questo giocatore, perché uno come lui deve dare l'esempio, deve dare l'esempio e se sei andato veramente di testa sua per me ha fatto una grande cappellata, ma veramente vergognosa aggiungo, che lascia un cattivo esempio per tutti gli amici, per tutti gli amici, perché poi in campo si è comunque amici per tutti i compagni di squadra, io non lo so, io non so, devo valutare, ripeto, non lo so, non ho capito come mai, ma si è preso, si è preso di testa sua e se ne è andato lì negli spogliatoi, no, non è un gesto di sport, non è un gesto che piace a me, assolutamente, ma lo valuteremo, va bene, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, like, iscrivetevi al canale, un grande abbraccio, te ne iscrivetevi. Grazie a tutti.